Oh mio dio che figata! Un autobus che salta su un trampolino, non l'ho mai visto Ciao a tutti piccoli coletti e betternalli sul mio canale Oggi siamo di nuovo supergeven per fare due glitch con queste due colette Sì brava, batti le mani e lei? Sono pure, sono povera No, tu sei riccia come lo siamo tutti noi! Ok, togli il cartellino per favore perché dobbiamo iniziare col primo glitch, cioè il primo hack Tu adesso prendi in braccio questa meravigliosa ragazza Adesso lei deve cliccare, questa ragazza, che deve cliccare in spalle, perciò clicca Ok, adesso che l'ha presa in braccio, la ragazza che è sotto, quella sotto, questa qui, questa bella nera Deve uscire dal sede, perciò esci! Ciao a dopo! Ok, adesso che... Ok, adesso io la devo prendere in braccio e la ragazza che è uscita deve rientrare Perciò ragazzi, deve rientrare Ok, adesso devo portarla a Hurt Ok, adesso che abbiamo fatto questo, noi siamo in questo stato, io sono mezza obliqua e lei ancora così Ok, adesso che sei entrata, tu devi prenderci in braccio Prendici in braccio per favore Ok, perfetto, eccoci questo stato, possiamo essere in tre, perciò adesso vediamo cosa vuole fare Sta andando da qualche parte, ok Ok, è mezza obliqua, non capisco come fa a camminare mezza obliqua, però cosa vuole fare adesso? Cosa vuole fare? Stiamo volando, tutto insieme, è questo che si può fare, tutto insieme Aiuto! Ok, ok, siamo in questo stato, ora sono io che decido cosa vogliamo fare Con questa cosa noi possiamo decidere cosa e come vogliamo fare Ora vado su ed ora nuotiamo Oh no, non volevo nuotare, io volevo solo nuotare Ragazzi, no, adesso nuotiamo giù nel mare Dai, nuotiamo nel mare Ragazzi, guardate cosa sta succedendo, io mi sono lasciata mollare Ma lei quella sotto deve camminare, invece sta camminando quella sopra Vabbè, adesso andiamo al centro più veloce possibile Dobbiamo andarci facendo così Ok? Venite su Oh no, ragazzi Cosa è successo? Aiuto! Ok Ragazzi, la macchina sta camminando Ragazzi No, mi sto rubando la macchina Tornate qui Tornate qui È la mia macchina Ecco qua È la mia macchina Ok, io posso stare così senza fare niente È solo loro che fanno tutto Che belle macchine, eh? Cioè, può anche saltare e può camminare con le ruote in su Oh mio Dio Ok? Ci siamo? Non dirmi che mi vogliono far saltare di nuovo, eh? Siamo al centro Ok? Ok? Ok ragazzi, siamo ufficialmente così in questo modo Chi sa come si molleranno queste due Oh mio Dio Siamo andate in Cina? Siamo andate in Cina Siamo andate negli appartamenti Siamo andati Proviamo con l'autobus Cosa succederà? Allora Vi dispiace ragazzi Adesso devo togliere la macchina Vediamo cosa succede con l'autobus Perfetto Eccoci qua Oh mio Dio No che figata Venite davanti Venite davanti Aiuto Avete mai visto un autobus che salta? Beh, ora lo vedrete 3, 2, 1 Salta l'autobus Guardatelo Che figata Cioè ragazzi Questa cosa è troppo troppo bella Ma chissà Se prendiamo una macchina E loro ci vanno sotto Cosa succede? E allora Adesso prendiamo la macchina Ok ragazzi Oh basta Ok adesso Cosa vogliono fare? Sicuramente vorranno saltare di nuovo sul trampolino Ok come l'ho detto Oh mio Dio Che figata Da un autobus che salta su un trampolino Non l'ho mai visto Ok Adesso dobbiamo fare il prossimo hack Perciò Adesso cosa dobbiamo fare? Facciamo questo Dobbiamo prendere un meraviglioso martello Che non so nemmeno dov'è Oh ok Eccolo Ok Facciamo così Perfetto Ciao ragazzi Sto guardando su Ok e Dobbiamo fare Ferito Ok eccoci qua Siamo in questo stato Adesso andiamo sotto alla macchina E facciamo tipo che noi Stiamo riparando La macchina Ok ragazzi Ma stanno ballando Ma stanno ballando Dovevo fare io No devo No vabbè Se la ragazza sopra Mi prendesse Cosa succederebbe Secondo voi ragazzi? Adesso Ragazze Qualcuno di voi Mi deve prendere Ok Adesso Ho mandato la richiesta Di spalle a loro Oh mio dio Luca ma non serve Nessuna danza E' lei che ci controlla Ok Adesso andrò davanti Ok Che amicato ragazzi Ragazzi E' molto divertente Dovete subito Provare questo Ax Adesso se andiamo nel server pubblico Cosa succede? No dai Non ci voglio andare nel server pubblico E' bellissima questa torre E non la voglio assolutamente perdere Aiuto Cosa succede? Cioè raga E' una roba Merav... Cioè Bellissima Se faccio così Cosa succede? No vabbè Che figata Che figata Ragazzi Cioè raga E' una figata E' pazzesca Se ci prendiamo un gelato Ci siamo Ok ragazzi Sta succedendo una roba strana Lei è come se cadesse Ma non so il motivo Ok Adesso ci prendiamo un meraviglioso gelato Lei Io me lo prendo così Chi lo vuole la vaniglia? Ok Qualcuno se l'ha preso così E tu cosa vuoi? Che buono la vaniglia E lei se l'ha presa La bubble gum Buono eh Ok raga Meraviglioso Dobbiamo solo però Pagare Perciò adesso Dal mio zainetto Mi prendo la carta di credito Ovviamente Offro io Perché sono bravissima Sono più brava di voi Mi dispiace tanto Vabbè Non importa Ok Ora Spreco i miei soldi Ok Ce l'abbiamo fatta Adesso Usciamo con i gelati Now si mangia il gelato Tranquillamente Quindi Facciamo questo Ragazzi Tenete forte il gelato Tenetelo forte Perché adesso Andremo a saltare E chissà il gelato Ora Volerà Io non lo so Assolutamente Non lo so Ok Andiamo avanti E siamo finiti In piscina Uffa però No il gelato È acquoso Si può soffocare Che bello Ragazzi Oh no Oh no Oh no Hold on Guys Hold on Ragazzi È stato Meraviglioso È stato Magnifico Ed è stato Molto molto Divertente Perciò Ora ci voglio Riprovare Chissà Magari Andremo nel mare Si può vedere Tutto porcaven Oh Che bello Che bello Che bello Cioè raga È una roba Magnifica Sicuramente Ci dovete provare Anche voi Ragazzi Sarebbe bello Avere tantissimi Altri amici Che sono Qua sopra Comunque Ragazzi Ora ci salutiamo Saluto Queste due Cloette Insieme a me E Oltretutto Se non l'avete ancora Fatto Iscrivetevi al canale Se avete visto Tantissimi video Del mio canale YouTube Cliccate la campanellina Mettete like A questo video Se vi è piaciuto E noi ci vediamo Alla prossima Con una nuovissima Aventura Ciao Ciao make a smile now and just be happy